Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Nicola Molteni, deputato della Lega, buonasera, bentornato Gianrico Carofillo, scrittore, e buonasera, bentornato Beppe Serenini, vice-editore del Corriere della Sera, editorialista del Corriere. Allora, Salvini, avete sentito, si dice, pronto ad andare in prigione per la libertà, poi chiede ai suoi di votare per mandarlo a processo e infine invita i sostenitori a digiunare per solidarietà nei suoi confronti. C'è una logica politica in tutto questo? Subito dopo la pubblicità. Allora, onorevole Molteni, Salvini ha chiesto ai sostenitori di digiunare per solidarietà nei suoi confronti. Dopo che voi, senatori leghisti, con il vostro voto, avete deciso di mandarlo a processo su richiesta dello stesso Salvini. Intanto le volevo chiedere, lei sta già digiunando? Il mio digiunio continuo ormai da giorni per gli impegni politici, quindi tengo la linea. Tengo la linea. Ci sono tanti impegni politici, quindi salto pranzo e cena per adempiere... Ma la colazione non fa? La colazione sì, la colazione sì. E anche qualcosina poi prima di andare a dormire, perché se no... Sì, sì, sì. Quindi non digiuna per solidarietà, questo abbiamo capito. Digiuna tra un pasto e l'altro. Digiuna tra un pasto e l'altro. Ma questa richiesta di digiuno è un modo come un altro per parlare alla pancia degli italiani? Oddio, la battuta facile sarebbe... È un modo anche per parlare alla sua pancia, perché mi sembra che rispetto all'onorevole che ho visto prima in grande forma, forse se permette il suo leader, ne ha un po' più bisogno. Però siccome so che su questa cosa è sensibile, rispondo seriamente. Sì, in qualche modo sì, perché rende spettacolare questi ultimi giorni di campagna elettorale in Emilia-Romagna e di questo infatti ne stiamo parlando anche adesso. Io non lo trovo del tutto serio. Mi sembra che il digiuno, non a caso, è un elemento così importante nelle religioni. E' una cosa seria. Il digiuno, il primo pannella, era una cosa seria. Questo mi sembra un digiuno, ecco, una specie di digiuno a metà fra il dinner cancelling stile Fiorello, il salta pasto tradotto in italiano, e una trovata... Ma secondo me neanche lui la propone troppo seriamente. L'idea 5.000... Però c'è qualcuno che segue, perché su Facebook credo ci sia già... Ecco qua, vedete? Digiuno per Salvini, 4.269 che saranno... Siamo 60 milioni e 4.000 che... Ma insomma già sempre mi stupisco che ce ne siano così tanti. Secondo me, non lo so, non conosco queste 4.200 persone, mi sembra che l'intera faccenda non vada presa troppo sul serio. Secondo me neanche Salvini la prende troppo sul serio, perché se no la risposta dovrebbe essere seria. E sarebbe non sei serio, caro Salvini, perché proporre un digiuno, una cosa seria come un digiuno, prima di un'elezione, perché ti mandano a processo, un processo per cui il tuo partito ha votato sì, qui siamo alla... Sì, tra l'altro rischia davvero di andare in carcere Salvini, perché dice caso Gregoretti, Matteo Salvini ha processo, rischia la galera per aver difeso la patria. Io sto con lui, digiunerò per un giorno in segno di solidarietà. A parte che lei ha detto che è tutto molto ridicolo a partire da Silvio Pellico, citato da Salvini. Io per il futuro conto infatti di non utilizzare più il nome anagrafico del segretario della Lega, ma di chiamarlo Silvio Pellico, come ha inteso autonominarsi con una acrobatica operazione, per la quale se io fossi un umorista, un autore di articoli umoristici, un praticante della satira, gli farei causa, e gli farei causa perché uccide la satira con le sue stesse mani, dicendo cose di questo genere. Ma forse è quello che vuole, stiamo sottovalutando invece una tecnica comunicativa che negli ultimi giorni di campagna elettorale... Esattamente, è quello che vuole. Mi sono chiesto per quale motivo non Maroncelli invece di Silvio Pellico, che era l'amico di Silvio Pellico che ebbe una situazione se possibile ancora più grave. Perché lei è un intellettuale. Ma sono sicuro che ne è a conoscenza, perché credo che Salvini abbia studiato storia. Mi pare che avesse detto, forse lei ci può aiutare, che si sarebbe laureato in storia quando la Padania fosse diventata autonoma, il che, considerato quello che sta succedendo negli ultimi tempi, forse rinvia un po' i tempi della laurea di Silvio Pellico. Rinvia un po' la laurea? Secondo me invece il tema è estremamente serio. Adesso digiuno sì, digiuno no. Il digiuno è evidentemente una forma da un lato di solidarietà da parte di tanti cittadini italiani che probabilmente la pensano come Matteo Salvini sul tema dell'immigrazione. Perché il tema dell'immigrazione, il contrasto all'immigrazione clandestina, la gestione dei flussi migratori, che sono dei fenomeni globali, rispetto ai quali le risposte devono essere blogali e non ci sono state, evidentemente sono dei temi rispetto ai quali i cittadini italiani condividono quello che Matteo Salvini ha fatto da Ministro dell'Interno. Innanzitutto Salvini non scappa dal processo e credo che questo sia un dato estremamente importante. Non ha timore e non ha paura di affrontare un processo rispetto al quale Salvini verrà processato per sequestro di persona, cioè per aver fatto quello che un Ministro dell'Interno, chiunque esso sia e chiunque esso fosse, Salvini, Minniti, Alfano, Pinco Pallino, il Ministro dell'Interno che è Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, cioè responsabile numero uno della sicurezza italiana ed è colui il quale coordina per definizione il controllo delle frontiere esterne del Paese, avrebbe difeso la patria, avrebbe difeso la sicurezza, avrebbe difeso i confini del Paese, avrebbe difeso la sicurezza dei cittadini italiani e per aver fatto questo, che è un diritto del Ministro, anzi è un dovere che un Ministro dell'Interno deve assolvere, per aver fatto tutto questo rischia di essere messo sotto processo. Io credo che sia abbastanza anomalo, visto che anche altri Ministri in altri Paesi difendono il loro Paese, quindi è un dovere da parte del Ministro all'interno difendere la sicurezza del Paese. Messa così, Severnini, c'è una logica? Allora, la questione dell'immigrazione è una questione molto seria, le accuse Salvini sono serie, sono d'accordo, la pensiamo un po' diversamente sulla questione, però è un tema serio, non mi sembra tanto serio accostare un digiuno pre-elettorale in questa maniera così estemporanea, siamo qua a parlarne, quando invece il tema è un altro, è appunto se i decreti di sicurezza che avete fatto fossero il modo giusto di affrontare la questione, perché avesse fatto questa scelta, la nave era italiana, ricordiamo, quella prima, era della Marina Militaria Italiana, però non facciamo il processino otto e mezzo, non sono neanche, poi siete due avvocati, ci sarà il vero processo, probabilmente ci sarà il vero processo. E' proprio l'accostamento con il digiuno, cioè mi sembra, siccome la questione è seria, comunque la vediamo, anche se la pensiamo diversamente, è una questione seria, mi sembra così attaccarci il digiuno, mi sembra una di quelle trovate, però ripeto, evidentemente in politica funziona, Trump fa questo moltiplicato 100, eppure prende dei voti, quindi si vede che funziona così. Ecco, però intanto quello che è successo, caro figlio, è che il tema dell'immigrazione è tornato in primo piano in questi ultimi giorni di campagna elettorale, pur non essendo per nulla un'emergenza, perché non abbiamo sbarchi continui sulle nostre coste, fermo restando che moltissimi, la maggior parte arriva invece via terra, se arrivano e quando arrivano. Quindi intanto questo è un primo risultato che ha raggiunto Salvini. E qui la interpreto da ex magistrato, rischia davvero di andare in prigione Salvini con questa vicenda? Io credo che dobbiamo chiarire i termini di fatto, prima di dire due parole sugli aspetti giuridici, e quindi sul rischio, certo se uno viene accusato di un reato grave, viene condannato, poi se prende una pena superiore ai quattro anni di carcere, in prigione ci può andare. Ma secondo me per arrivare a questo spunto dobbiamo prima fissare le coordinate di fatto. Le coordinate di fatto sono le seguenti, le abbiamo già dette qualche volta, ma forse giova, ripeterle. C'erano dei migranti a bordo di una nave italiana, una nave militare italiana. La Gregoretti. Ricordo a tutti quanti, a tutti quanti, che la nave militare è territorio italiano. Come una nave non militare, ma la nave militare è ancora di più. Quindi se sei a bordo di una nave italiana, sei sul territorio italiano. Quindi sgombriamo il campo dalla questione dei presunti confini da difendere, perché i confini, a torto e a ragione, erano già stati superati, perché questi signori erano nel territorio italiano. Una volta che erano nel territorio italiano, chiedo scusa, questo è importante, perché se no non chiariamo una questione fondamentale. Una volta che sei nel territorio italiano, sei sottoposto alla legge italiana, e quindi alle regole che disciplinano lo stare sul territorio italiano, fra queste regole non c'è un potere di riduzione della libertà personale da parte del Ministro dell'Interno. In questo Paese, a norma della Costituzione, reggete le mie labbra, l'articolo 13 della Costituzione, la libertà personale la può limitare soltanto l'autorità giudiziaria con provvedimento motivato. Il Ministro dell'Interno non ha questo potere, e quindi il Ministro aveva soltanto la possibilità di dire vai in un certo porto o vai in un altro porto, ma la nave era già in un porto. Quindi il fatto che il Ministro, con un suo provvedimento, impedisse a queste persone di spostarsi, di muoversi dall'imbarcazione, altro discorso sarebbe stato se gli avesse consentito sotto il controllo adeguato che era necessario, configura in astratto per i magistrati il reato di sequestro di persona. Appena è il caso di considerare, per parlare di quello che accadrà in Parlamento e quello che è accaduto prima in Commissione, che la possibilità di ritenere politico questo comportamento e quindi escludere l'autorizzazione a procedere non è consentita, per quello che dice la Corte Costituzionale, per interpretazione pacifica, se vengono colpiti i diritti fondamentali dell'individuo. L'onorevole Molteni sa quali sono i diritti fondamentali, personali e inviolabili. Libertà, integrità e vita. In questi casi non è possibile, se una nave italiana per fermare l'accesso sul territorio avesse sparato su un'imbarcazione su ordine del Ministro, questo sarebbe stato omicidio, allo stesso modo se su ordine del Ministro si impedisce di sbarcare a soggetti che sono già in territorio italiano, lo si impedisce non per un tempo tecnico, due ore, 24 ore anche, ma per parecchi giorni, dicendo che si aspetta la redistribuzione, beh, questo per me è sequestro di persona. Mi si è consentito di dire che questa è la tesi sostenuta dal Tribunale dei Ministri di Catania, la Procura di Catania, la Procura di Catania sul caso Gregoretti, intanto sul caso di Ciotti chiede l'archiviazione, e sul caso della Gregoretti la Procura di Catania chiede l'archiviazione perché il fatto non costituisce reato. Cosa dice la Procura di Catania in antitesi rispetto al Tribunale dei Ministri? Dice che l'attesa di tre giorni prima dello sbarco non può configurare né l'abuso di potere, né il sequestro di persone, né la privazione di libertà. Non c'è il sequestro perché vi era una procedura collegiale, concordata con tutto il governo di distribuzione dei migranti, perché le persone vulnerabili vengono fatte, i migranti vulnerabili, i 131 migranti vengono fatti sbarcare dalla Gregoretti, e perché tutti coloro i quali sono rimasti sulla nave sono stati sottoposti ad accoglienza. Mi si è consentito di dire anche una cosa, che è questa, che la Gregoretti interviene, sulla quale viene fatto il trasbordo da parte di due imbarcazioni, di due motovedetti della Guardia Costiera Italiana, perché ci sono due barconi, in Acque Sar Maltesi, Acque Sar Maltesi in base alla Convenzione di Hamburgo e Sar, la responsabilità del soccorso in mare è di Malta, che non lo fa, ci sono due imbarcazioni italiane che salvano 131 persone. Come può Salvini aver sequestrato 131 persone, stesse persone che Salvini avrebbe salvato? Manca l'elemento, lo dico a un ex magistrato, manca l'elemento soggettivo del rato, avrebbe sequestrato persone che ha salvato. Mi sembra abbastanza incomprensibile. Così stanno le cose, Salvini riuscirà a convincere i giudici che lo dovranno giudicare, se mai si arriverà a un processo. Ma le volevo chiedere una cosa, siccome in Giunta per l'Uminità, voi, lei è deputato, ma i suoi colleghi senatori della Lega hanno votato per il sì al processo di Salvini, voi leghisti voterete così anche in aula? L'ha confermato Salvini. Noi votiamo sì, evidentemente la Giunta per l'Uminità non deve decidere se Salvini ha fatto bene, ha fatto male, se bloccare e contestare l'immigrazione clandestina è giusto o sbagliato. Io ritengo che sia profondamente giusto per difendere la sicurezza perché l'immigrazione clandestina nel nostro Paese, fino a prova contraria, è un reatto. Salvini non scappa dal processo, qualcuno però è scappato dalle proprie responsabilità politiche. E mi riferisco evidentemente al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle che non si sono assunti la responsabilità il 20 di gennaio, come da calendarizzazione fatta dalla conferenza capigruppo del Senato di decidere di mandare Salvini a processo e non l'hanno fatto per una motivazione di natura politica. Quindi è qua che c'è la strumentalizzazione di natura politica di chi non voleva mandare Salvini a processo prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Credo che possiamo dire con grande serenità che la strumentalizzazione è stata operata e viene operata da tutti per cominciare da Salvini. Per quello che sia grave che delle forze politiche si sottraggono alla propria responsabilità e scappino ma sono tante cose gravi e l'ha fatto di decidere volontariamente di mandare il processo a Salvini. L'hanno fatto per paura. Voi prima non volevate e poi avete votato sì. Quegli altri volevano e non volevamo perché la Giunta... Ma si immagini la gente là fuori che ci sta ascoltando oggi e che ha ascoltato distrattamente negli ultimi giorni. Non è che voi altri, tutti, eh, il Parlamento ci fa una gran figura. Uno non capisce più niente. Io penso veramente che uno fa fatica a capire. Allora, i leghisti volevano... Però posso chiederti, Beppe, quello che là fuori la gente alla fine capirà è che Salvini è un martire e questo negli ultimi giorni di campagna elettorale può essere molto efficace, no? Allora, secondo me non credo perché non credo che sia così efficace. Certo che ci sta provando perché tutto quello che sentiamo dire sono veramente molto vicini i due candidati in Emilia-Romagna quindi anche pochi voti potrebbero fare la differenza li fa gioco ci porta lo stiamo facendo anche stasera a riparlare dell'immigrazione di cui, come hai detto tu che al momento non è certo tra i principali problemi italiani però sono convinto che è vero esiste la pancia degli italiani ma esiste anche la testa degli emiliani e la testa dei romagnoli che secondo me nelle prossime ore dovranno dire d'accordo al di là della nostra passione politica chi vogliamo che amministri di questa regione chi dei due chi è più capace non hanno una sanità che funziona trasporti che funzionano asili i migliori d'Europa o del mondo e un sacco di altre cose siamo sicuri che per passione ideologica perché Salvino Martire bisogna votarlo io credo che se qualcuno è soddisfatto io non vivo in Emilia-Romagna ho tanti amici qua e là credo che questa sarà interverrà la testa degli emiliani e dei romagnoli e forse conterà qualcosina di più della pancia degli italiani in questo giro è d'accordo caro figlio anche perché in tutto questo bisognerebbe ricordare che allora il presidente uscente dell'Emilia-Romagna è Bonaccini del partito democratico che si ricandida e dall'altra parte non c'è Salvini che invece sta facendo praticamente tutta la campagna c'è una bravissima donna c'è Lucia Borgonzoni che però sembra come scomparsa perché c'è Salvini 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 sarà anche molto difficile immagino sia per un uomo tanto più per una donna riuscire a reggere diciamo l'impatto mediatico l'esuberanza mediatica di Salvini il fatto sta che gli italiani voteranno ovvero gli emiliani e i romagnoli voteranno per la loro regione o voteranno per un test nazionale alla fine io sono specializzato in non sbagliare le previsioni semplicemente perché di regola non le faccio in questo caso mi sono azzardato a dire magari poi sbaglierò che per me Bonacini alla fine vincerà io non ho idea davvero non ho idea e così non ce l'avranno immagino gli emiliani quali siano le competenze amministrative della candidata della Lega che davvero non conosco quindi non posso dirne né bene né male non ho la più pallida idea di chi sia di che cosa abbia fatto di che mestiere facesse questo è un mio limite naturalmente perché mi sarei potuto informare è una parlamentare che fino a prova contraria non è un mestiere è una carica io non so che che tipo di competenze abbia se abbia fatto l'amministratrice di aziende geografiche non molte perché ha sbagliato un po' di volte questo non è un'ottima notizia allora se io fossi un Emiliano disilluso diciamo così dall'idea dei partiti tradizionali magari anche un po' stanco del fatto che in quella regione più o meno hanno governato sempre gli stessi però cercherei di fare un'operazione analoga a quella cui ha fatto riferimento Beppe Severnini mi chiederei vabbè a me non mi sono particolare scusate ho detto a me mi deliberatamente troppo simpatico Bonaccini potrei dire non mi è simpatico il PD non mi era simpatico il partito comunista che pure hanno amministrato eccezionalmente bene questa terra però mi farebbe piacere che continuasse a esserci questo standard di welfare questo benessere questo livello europeo se non mondiale della qualità complessiva della vita in quella regione e direi esattamente quello cui abbiamo fatto c'è no prima magari senza particolare entusiasmo voto Bonaccini però non so se questo succederà però davvero lo chiedo a lei lo chiedo proprio in spirito sono due che fanno parte delle lì no no le posso chiedere una cosa una mia domanda proprio davvero di uno che non si è informato ma l'onorevole Borgonzoni che formazione ha che cosa che precedenti ha di amministratrice o simili cosa ha fatto beh è stato sottosegretario al ministero dei beni culturali però se mi ha consentito la domanda che era stata fatta era se Salvini passa per vittima faccio dire la domanda poi le do soltanto sapere ma ripeto senza nessuna prospettiva polemica se ha qualche competenza amministrativa pregressa sì sì presumo di sì e comunque presumo di sì adesso io non è che devo per forza sapere dice Borgonzoni cosa cosa però se posso dirle se posso dirle io mi fido del popolo mi fido dei cittadini che voteranno e voteranno per il bene e noi rispetteremo quello che sarà il voto dei cittadini italiani solitamente in Emilia Romagna le elezioni regionali finino 70 a 30 70 per il centro sinistra 30 per il centro destra ho la netta sensazione che questa volta non finirà 70 a 30 non so chi vincerà evidentemente c'è un voto territoriale regionale se lei non conosce neanche il curriculum della vostra candidata in Emilia Romagna ovviamente l'ho trovata poco preparata ovviamente non finirà 70 a 30 ma ho la netta sensazione che questa sia una partita fortemente contendibile se è una partita fortemente contendibile l'Emilia Romagna è una regione meravigliosa io non credo che se verrà governata da un leghista la qualità della vita e il benessere degli emiliani romagnoli diminuirà anche perché laddove la Lega amministra e dove ci sono dei governatori leghisti tendenzialmente si governa bene e c'è apprezzamento da parte dei cittadini italiani dico semplicemente su Matteo Salvini non so se passerà per vittima o per martire sì o no sicuramente passa per uno che ha fatto il suo dovere passa per uno che ha fatto quello che deve fare il ministro dell'interno e quindi credo in Veneto la campagna elettorale l'ha fatta Zaia in Lombardia l'hanno fatta Maroni una volta poi l'hanno fatto sicuramente voi non avete fatto campagna elettorale perché fate altro nella vita noi che stiamo facendo campagna elettorale c'è Matteo Salvini che sta giustamente facendo una campagna elettorale io credo che non debba essere proibito a un leader di partito fare una campagna elettorale su una campagna elettorale che ha evidentemente anche dei risvolti e una sensibilità nazionale perché se il partito democratico perde l'Emilia Romagna evidentemente qualcosa al governo succede ma sta facendo campagna elettorale anche sia Borgonzoni che ovviamente ci mette la faccia non viene raccontato non è che non viene raccontato è una conversazione molto civile questa io questo lo apprezzo però no no non è sempre scontato però ecco vedete nelle pieghe del lessico si nasconde il diavolo il diavolo a volte qui non è il diavolo ma l'intoppo il fatto stesso che l'onorevole Molteni ci dica sta facendo campagna elettorale anche Lucia Borgonzoni è il segno di quello che stiamo dicendo ripeto io non ho elementi per giudicare questa sì no mi scusi mi faccio finire mi faccio finire mi deve fare 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 finire mi ha diritto di fare campagna elettorale ma che possiamo limitarne anche l'attività politica voleva smentirmi avendo io detto che era una conversazione civile ha deciso di renderla meno civile prendo atto di questo fatto sto dicendo quando sono stato interrotto che nelle pieghe della lingua si nasconde l'intoppo perché io se io sento un deputato del partito della candidata Borgonzoni che dice che non sa qual è il suo pregresso amministrativo dice presumo che ne abbia di competenze e poi dice ha fatto campagna elettorale anche la Borgonzoni mi sta raccontando esattamente quello che stiamo dicendo noi e cioè che c'è come avrebbe detto Dante lei coglierà la citazione una donna dello schermo e invece qualcun altro che sta giocando la partita allora diciamo che normalmente mi scusi onorevole Molteni ma no ma scusi no 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 aspetta aspetta ma scusi ma ci mancherebbe altro che il leader di un partito non possa fare campagna elettorale su una tornata elettorale che ha anche delle conseguenze ed è a riverbire da un punto di vista nazionale allora che ha delle conseguenze o no questo noi giornalisti che cerchiamo di analizzare il voto presumiamo no pensiamo che potrebbero esserci conseguenze se il PD perde la sua roccaforte come viene chiamata in Emilia Romagna è vero che normalmente succede però il contrario che il candidato è in prima linea e il capo del partito al quale aderisce questo candidato o candidata poi va a sostenere diciamo che Salvini l'ha detto lui ha detto che si è trasferito in Emilia Romagna già qualche mese fa e sta lì e fa un lavoro sensazionale non le voglio semplicemente dire mi scusi onorevole Molteni che nessuno sta mettendo in discussione il diritto di un leader politico di fare campagna elettorale per il o la candidata ci mancherebbe altro quindi non giriamo dal 27 gennaio in Emilia Romagna si trovano il candidato che avranno eletto ma sarà Buonaccino Salvini ma perché dovete negare il fatto che Lucia Borgonzoni stia facendo campagna elettorale da cosa viene dedotto il fatto che Lucia Borgonzoni sta facendo campagna elettorale Lucia Borgonzoni sta facendo campagna elettorale a Bologna che è stata parlamentare senatrice è stata sottosegretaria quindi ha un'attività amministrativa una cultura amministrativa e politica da un punto di vista la consigliere comunale è stata consigliere a Bologna ma adesso saranno i bologni io non credo che lei sia Emiliano Romagnolo saranno gli emiliani romagnoli che valuteranno le qualità le competenze la professionalità l'attitudine a fare quello che Lucia Borgonzoni adesso che l'onorevole Molteni si è ricordato qualcosa del curriculum su della Borgonzola mi sembrava veramente offensivo rispetto alla domanda fatta dopodiché Salvini ha fatto campagna anche elettorale in Emilia ha fatto campagna elettorale anche in Umbria insieme alla candidata e mi sembra che in Umbria sia finita poco a tanto tra qualche giorno vedremo come finiranno le cose ma certo è una partita aperta cosa che non l'è mai assolutamente stata quindi vuol dire che Matteo Salvini e la Lega che oggi è il primo partito in Italia probabilmente qualcosa stanno portando in questa campagna elettorale e ricordo che laddove la Lega amministra probabilmente amministra anche bene quindi quella buona qualità amministrativa degli Zaia dei Fontana dei Fedriga probabilmente dimostrano che gli uomini e le donne della Lega in questo caso le donne e ne sono particolarmente orgogliose potranno governare bene una regione importante che bella che è bella come Emilia Romagna intanto dissento sul fatto che Salvini sia il più bravo in campagna elettorale ma su questo parleremo magari un'altra volta entrando nel dettaglio è una mia opinione non ha particolare importanza quello che conta invece ancora una volta ripeto da parte di una persona competente come l'onorevole Molteni il fatto che lui usi delle espressioni che tradiscono la mancanza dell'argomento quando io chiedo che esperienze di amministrazione ha l'onorevole Borgonzoni lei mi dice ha fatto il consigliere comunale ricordo a tutti che il consigliere comunale non amministra nulla è un eletto in elezioni amministrative ma amministra chi fa il sindaco scusi abbiamo un presidente del consiglio che non ha mai preso un voto quindi fa il presidente del consiglio quando si presenterà se abbiamo un presidente del consiglio che non è stato mai eletto che non ha preso un voto e fa il presidente del consiglio bene o male lo uccideranno i cittadini italiani però lo fa in maniera legittima il presidente del consiglio oggi ha detto che solo Salvini ha deciso sulla Gregorette Salvini l'ha detto ci vedremo in tribunale quindi sarà una bella saga con varie puntate bisogno solo di 10 secondi certo che un leader di un partito deve sostenere il suo candidato ma deve sostenerlo ma il candidato deve stare davanti il 27 di gennaio chiunque vinca gli emiliani e i romagnoli si trovano con o Bonaccini o la Borgonzoni come loro presidente Salvini dal 27 di gennaio non c'è più in Emilia Romagna e quindi io se fossi un emiliano romagnolo questa domanda me la fa non è stato il primo anche Berlusconi anche Renzi era uno che andava spesso negli Stati Uniti il voto locale è molto influenzato dal presidente in carica guardate la stazione dei repubblicani ma io qui non ce l'ho con voi assolutamente io ho sempre pensato che il voto locale è un voto locale io quando io voto a crema io voto una sindaca perché è brava potrebbe essere il partito blu, giallo o verde avevamo avuto un bravo sindaco leghista in passato abbiamo un'ottima sindaca del PD adesso che guarda caso hanno preso dei voti per quello che erano loro non perché arrivava un signore da fuori a fare il digiuno basta adesso no perché vi devo far vedere il punto di Paolo Pagliaro perché appunto domenica ricordiamolo non si vota solo in Emilia Romagna ma si vota anche in Calabria pochi secondi di pubblicità e poi guardate il punto non se ne parla molto ma domenica si vota anche in Calabria i due milioni di calabresi pagano pro capite le stesse tasse dei 4 milioni e mezzo di emiliani ma non hanno le stesse strade la stessa sanità gli stessi servizi non hanno neppure lo stesso peso politico perché in Calabria a differenza che in Emilia non si decidono le sorti del governo il voto dei calabresi è stato quasi sempre prevedibile da quando i presidenti della giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto cioè dal 2000 gli elettori infatti hanno sempre premiato l'alternanza nel 2000 vinse Giuseppe Chiara Vallotti per il centrodestra nel 2005 Agazio Loiero per il centrosinistra nel 2010 Giuseppe Scoppelliti del PDL nel 2014 Mario Oliverio del PD nel corso del tempo c'è stata gloria per tutti alle politiche del 2018 il Movimento 5 Stelle raccolse uno stupefacente 43% più o meno gli stessi voti che dieci anni prima aveva saputo raccogliere il PDL di Berlusconi quest'anno corrono in quattro il centrosinistra sostiene l'imprenditore Pippo Callipo la destra la forzista Iole Santelli con il docente Francesco Aiello i 5 Stelle come in Emilia si presentano da soli e candidato indipendente c'è anche il geologo Carlo Tansi la Calabria ha numerosi primati con la Sicilia ha il numero più alto di ragazzi che non studiano e non lavorano ma ha anche oltre 200 start-up giovanili innovative una che recupera antichi mulini e granai dimenticati ha rappresentato l'Italia al G7 Agricoltura la sanità calabrese unico caso è stata commissariata dallo Stato ed è in fondo a tutte le classifiche ma la Calabria può vantare con Renato Dulbecco un Nobel per la medicina domenica si vota e chissà quale delle tante calabrie si affermerà ecco sapremo tutto domenica sera Beppe Severnini volevo ricordare prima di chiudere che tu sabato sarai a Firenze al Teatro Puccini con il tuo spettacolo dal titolo Diario sentimentale di un giornalista esatto e chiudiamo poi il 31 gennaio a Roma al Teatro Vittoria e chiudo tutta la tournée ho fatto un anno in giro per le città italiane e dico cosa si può imparare dalla storia di un giornalista cosa si può essere utile nel vostro lavoro è un racconto con musica con musica se vuole la invito no lei non può quella sera dopo sta pensando le lezioni il giorno dopo allora grazie Beppe Severnini grazie Gianrico Carofilo grazie onorevole Molteni buon lavoro grazie Petarice vi lascio a Floris al suo di martedì dove stasera ci saranno molte sardine oltre ad altri ospiti importanti tra cui anche il presidente uscente dell'Emilia Romagna Bonaccini che appunto si ricandida noi ci vediamo come sempre domani in 8 e mezzo arrivederci